Buongiorno a tutti, mi chiamo Zeno Filiberti e sono il terzo anno di dottorato in fisica astrofisica qua all'Insubria. Svolgo la mia attività di ricerca sotto la supervisione del professore Alberto Parola e mi occupo di fluidi. Beh, i fluidi appartengono a una categoria che è molto ampia, perché se ci pensate andiamo dall'aria che respiriamo all'acqua che beviamo, ma abbiamo anche fluidi più bizzarri come per esempio l'impasto di una torta. E questi fluidi possono esibire dei comportamenti molto particolari, come ad esempio, per avvicinarmi di più a quello che è poi l'effettivo campo della mia ricerca, possiamo considerare una particella, una particella anche grossina, immersa in un fluido, come può essere ad esempio l'acqua. Beh, quello che è stato scoperto è che utilizzando dei gradienti di temperatura è possibile veicolare, trasportare questa particella all'interno del fluido. Cosa vuol dire? Vuol dire che generando del caldo in una regione dell'acqua e del freddo in un'altra regione dell'acqua è possibile trasportare la particella. E questo è un fenomeno sicuramente interessante. Anche da un punto di vista tecnologico può essere utile per tante applicazioni. È chiaro che però è utile e interessante capire quelli che sono i meccanismi fisici che stanno alla base di un comportamento di questo genere. E per fare questo è possibile, per esempio, sviluppare delle teorie microscopiche, cioè che vanno a considerare veramente il fluido come costituito da tante piccole molecole, utilizzando la meccanica statistica. Oppure può essere utile anche sfruttare i computer. Già, perché quando la matematica diventa molto difficile, molto pesante da portare avanti, allora è utile far fare i conti al computer. E in particolare quello che faccio io sono delle simulazioni numeriche di dinamica molecolare dove sostanzialmente ricostruisco il fluido all'interno del mio computer. E in questa maniera riesco a capire come esso si comporta con la speranza di avere una comprensione maggiore di fenomeni come il trasporto di particelle dovute gradiente di temperatura. Vi auguro una buona continuazione. Ciao!